Buongiorno, mi chiamo Walter Celso, vengo da Roma, 63. Ai miei problemi sono stati tantissimi, veramente ho avuto delle vicissitudini evidenti disastrosi, veramente. Frugando su internet ho trovato Dottor Palmas, entrando, vedendo tutte le cose, testimonianze, tutto quanto, mi sono veramente riasserenato di tutte le cose che ho letto, talmente ero proprio rasserenato di tutte queste cose del Dottor Palmas che sono convinto e ho mandato la mia panoramica e ne manca una settimana mi ha risposto, sono stato veramente contento, tutto quanto, sono convinto, sono partito così, deciso proprio e ho trovato veramente un'accoglienza bellissima, veramente, dall'autista, dalla logistica, a tutti, veramente, il personale veramente fantastico. I risultati sono stati veramente soddisfacenti, veramente degli angeli. e consiglierei a qualsiasi altra persona di fare questo, veramente, io dico, avventura, non è un'avventura, una cosa veramente concreta e reale che veramente porta il sorriso, veramente il sorriso. Mi ha fatto veramente stare bene e rinascere, devo essere sincero con il cuore, ve lo dico. Mi sento veramente rinato e con la voglia di vivere che ci avevo sempre, da sempre. Ecco, un bel sorriso a voi.